Mi chiamo Mattia Fiocchetti. Sì, lo so, ho fatto un sacco di cazzate nella vita. A scuola, con gli amici. E soprattutto con la borraccia di mia madre. Questa è l'ultima volta che vado a piegare di miseria per te. Dimmi che mi devi dire che è triste, hai capito? Ho capito. Mi sarebbe piaciuto avere un padre, ma ci ho abbandonato quando ero piccolo. Se non rigi dritto, non rispetti il programma di recupero. Ti rimandano in informatorio, eh? Chiaro? A me, la pari in cazzo stai a farlo. Tua madre lo sa. Come si stava al fresco? E gli vuole i soldi dalla roba che ti hanno levato quando ti hanno portato dentro. A me prese per culo, a me piacciono. Bastardi! Ma che sta a farlo? Te la posso dare? Certo. Ma un cazzo fa? Sceso, controllato a vista, mi posso muovere. Ma come vi siete messi in questo guaio? Nel momento più buio se è acceso un faro che mi ha illuminato tutto intorno. Ma come vi siete messi in questo guaio? Eh? 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 Grazie a tutti.